Dai, bella figura, complimenti, bella figura, bella figura che ci fate davanti ai cittadini. Le false promesse dei politici, eccole qui ragazzi, vuoi signoria, vuoi signoria potentati, vuoi signoria massoneria, vuoi signoria lobby dominanti, vuoi signoria soldi, dollari, petrol dollari, gas, vuoi signoria inquinamento, inquinamento libero, inquinamento per distruggere la vita delle persone e invece i ricchi comandano, i ricchi comandano il mondo, i ricchi governano il mondo, le lobby, le multinazionali, i potentati, la massoneria, quelli che hanno in mano il petrolio, l'oro del mondo e già perché cosa hanno fatto i nostri amati governanti? Hanno dato via libera alle trivelle perché non è passata la moratoria che doveva sospendere le concessioni, cioè ho letto vagamente nel senso che le concessioni rimanevano in essere, però c'era una moratoria, una sospensiva che non è stata prolungata. Diciamo che i ministri si sono casualmente addormentati sotto le lenzuole e quindi, leggevo il comunicato dei Verdi, è stato dato via libera 53 trivelazioni. Questo è il dato, questo è il dato, capito? Quindi, col benestare dei poteri forti si continua a inquinare. Il problema è che le promesse erano differenti perché all'opinione pubblica si dà in pasto ciò che conviene, però il potere se lo spartiscono in pochi.